Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa all'attore americano Steven Seagal, che più volte nel passato ha difeso la politica del governo di Mosca, compresa l'annessione della penisola di Crimea nel 2014. I nonni paterni della torre di Trappola in alto mare erano ebrai russi, l'attore che ha 64 anni e originario della California, ma era orgoglioso di avere origini russe e mongole.